Vorrei che voi, io vi metto qua a fianco a voi, deste il benvenuto perché da due mesi a questa parte da normali cittadini sono stati quelli più sotto il fuoco di tutti i parlamentari 163 sono i capigruppo rispettivamente al Senato e alla Camera Vito Crimi e Roberta Lombardi Qui c'è la clac, mi dico Vito, Vito, Vito Cioè sei venuto a casa mia portandoti la clac Eh la clac, non so da dove vengo Fantastico Ed è Roma Ciao a tutti, ciao Roma Grazie Movimento 5 Stelle Roma Beh vedo che ti amano Eh sì Allora scusate, parlare in una piazza davanti a tante persone è sempre un'emozione Continua ad esserlo e speriamolo sia sempre e non ci abitueremo mai Cosa dire, in questo momento la domanda, la prima domanda che ci viene fatta ed è giusto che vi rispondiamo in questa domanda è cosa avete fatto? Il fatto di essere in Parlamento, il fatto che oggi si parli di alcuni temi che fino a poco tempo fa erano assolutamente ignorati E' merito nostro e ce ne prendiamo tutto il merito Se oggi qualcuno Se oggi qualcuno Pur consapevoli che è una presa in giro dell'ultimo giorno di campagna elettorale però sente il dovere Di parlare di abolizione dei rimborsi elettorali è perché qualcuno ha rotto le palle per anni Sull'abolizione dei rimborsi elettorali Fino ad anni fa non se ne parlava minimamente Se oggi i partiti della sinistra si riempiono la bocca di reddito di cittadinanza Sostenendo che sono loro ad avere la titolarità di parlare di quel tema E' solo perché un movimento sei mesi fa l'ha messo come primo punto del programma elettorale Perché fino ad un anno fa non l'ho mai visto scritto in nessun programma elettorale Né tantomeno fatto E se oggi si fa il reddito di cittadinanza è perché noi l'abbiamo messo come primo punto Queste sono le vittorie Le prime vittorie Sono le prime vittorie Il fatto che sta cambiando Sta cambiando la prospettiva Sono costretti Costretti ad adeguarsi Vorrebbero omologarci Hanno provato ad omologarci in tutti i modi Ma adesso sono loro costretti ad adeguarsi Alla novità che stiamo portando dentro Questa è la prima vittoria D'altronde l'avevamo detto Sarebbe passato uno solo di noi Lì dentro e sarebbero cambiate tante cose Quindi lo stiamo vedendo giorno per giorno Noi abbiamo avuto questo ruolo da rompighiaccio per questi mesi È stato veramente una cosa personalmente molto molto dura Perché siamo persone assolutamente normali Però senza di voi che incontriamo ai banchetti Con cui parliamo su internet, sui social Senza di voi che quando passiamo per strada ci date un bacio Una stretta di mano, un incoraggiamento, una pacca sulle spalle Noi non ce la faremmo, non ce l'avremmo fatta a sopportare tutto questo Quindi grazie, grazie davvero Tutti a casa 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 Grazie.